eccoli qua i nostri asparagi alla Piemonteve ogni persona viene servita una di queste padelle dove poi ora metterò l'uovo ragazzi mettiamo anche l'uovo ecco adesso con l'uovo mettete l'uovo un po sbattuto fino ora si spegne il gatto e si riesce da prendere una bella spruzzata di parmigiano e di pepe e ogni commensale va una padella di queste gli asparagi alla piemontese persone dello chef titanino della vecchia Piemonte il piatto completo da servire mise en place con le boschette ragazzi una godura una godura ragazzi